Ciao a tutti e bentrovati con questo video che è la terza puntata della serie Risolvo una struttura tre volte iperstatica. Nelle prime due puntate abbiamo presentato questa struttura, abbiamo analizzato il suo grado di vincolo e verificato che fosse effettivamente tre volte iperstatica e al fine di poterla risolvere abbiamo suddiviso la struttura nella sovrapposizione di quattro sistemi isostatici. L'insieme di questi quattro sistemi è la struttura isostatica equivalente. Il sistema 0 è la struttura resa isostatica e soggetta ai carichi esterni della struttura assegnata. Resa isostatica significa che abbiamo eliminato tre gradi di vincolo trasformando in particolare in cerniera i due incastri esterni in A e in D e l'incastro interno in C, quindi abbassando di tre il grado di vincolo. Le altre tre strutture hanno lo stesso schema, quindi sempre strutture isostatiche, ma in ciascuna di esse mettiamo come carico la reazione del vincolo che è stato eliminato. Quindi nel sistema 1 abbiamo la reazione del vincolo in A, nel sistema 2 abbiamo la reazione del vincolo in D e nel sistema 3 abbiamo la coppia di reazioni del vincolo in C. Sono due reazioni uguali opposte perché si tratta di un vincolo interno. Se andiamo a guardare con più attenzione vediamo che nei sistemi 1, 2 e 3 queste reazioni incognite dei vincoli che sono stati eliminati sono poste pari a 1. E allora per ricostruire il sistema complessivo dovrò fare una combinazione lineare, ovvero dovrò sovrapporre il sistema 0, così com'è, più il sistema 1 moltiplicato per MA che è il valore della reazione in A che al momento è incognito, più il sistema 2 moltiplicato per MD che è il valore della reazione in D, anch'esso incognito, più il sistema 3 moltiplicato per il valore MC della reazione in C che è tuttora incognita. La sovrapposizione di questi quattro sistemi, questi quattro sistemi combinati linearmente come ho detto, forniscono un sistema che è in tutto e per tutto equivalente al sistema 3 volte iperstatico che stiamo studiando. Tutto l'esercizio consiste nel ricavare i valori di MA, MD ed MC. Nei primi due video di questa serie ho risolto il sistema 0 trovando le reazioni vincolari e le leggi dei diagrammi del momento flettente. E' lo stesso fatto per il sistema 1. Ora siamo alla terza puntata in cui mi concentrerò sul sistema 2 e sul sistema 3 ricavando per questi due sistemi reazioni vincolari e leggi dei momenti flettenti. In un successivo video faremo la conclusione con il principio dei lavori virtuali, metteremo tutti insieme, anche con l'aiuto di alcuni programmi scritti in Python, ricaveremo i valori incogniti delle tre reazioni vincolari, cioè delle tre incognite iperstatiche. Iniziamo subito quindi ad analizzare il sistema 2. Al solito eviterò il più possibile di scrivere equazioni di equilibrio per trovare le reazioni, ma cercherò come sempre di ricavare le reazioni al volo in questa maniera. Il sistema è soggetto al carico esterno che è un momento anti-orario pari a 1, che agisce direttamente sul tratto CD. Il tratto CD quindi è un pendolo, che normalmente darebbe azioni solo assiali, ma è caricato trasversalmente, caricato dal momento, e quindi reagirà con delle reazioni perpendicolari ad esso, che creano un momento che bilancia questo. Quindi momento 1 anti-orario, le due reazioni in D e in C, interne al pendolo, dovranno ricostruire un momento pari a 1 e che gira in senso orario. Siccome il pendolo è lungo H0 più H1 più H2, questa lunghezza che complessivamente potrei chiamare H maiuscolo, come ho fatto nei video precedenti, abbiamo 1 su H maiuscolo e 1 su H maiuscolo, in modo che 1 su H moltiplicato il braccio mi dà un momento pari a 1. Al solito i vettori che disegno indicano le azioni che i vincoli esercitano sui tratti. Potrei scambiarle e disegnare qui una forza uguale opposta, che sarebbe l'azione che il tratto esercita sul vincolo. È lo stesso qui, ma per evitare confusione non lo farò. Quindi le frecce che mi vedete disegnare sono sempre azioni sui tratti. Quindi sul tratto CD agisce il carico esterno 1, momento anti-orario, e queste due forze che vengono applicate sul tratto dei vincoli che producono l'azione opposta e quindi il tratto è bilanciato. Ci potrebbe essere in più un'azione assiale che non interessa nell'equilibrio alla rotazione e quindi non perturberebbe questo equilibrio che ho stabilito. Vedremo se ci sarà. Andiamo avanti. In C, nodo C, visto che c'è il tratto CD che prende questa azione orizzontale, ci deve essere il tratto CB che prende l'azione uguale opposta. Quindi anche questa 1 su H. Se le scambiamo queste due, non le disegno, agiranno sul nodo C che sarà bilanciato perché sarà soggetto a una forza diretta come l'opposta di questa proveniente dal tratto BC e ha una forza diretta come l'opposta di questa proveniente dal tratto CD da cui somma è 0. Al solito rappresento le azioni sui tratti. Bene, il tratto CB, che in realtà è CBA perché è un unico tratto, per l'equilibrio alla traslazione orizzontale deve ricevere in A un'azione orizzontale così pari a 1 su H. Così è stabilito l'equilibrio orizzontale, ma non funziona l'equilibrio rotazionale, ok? Perché c'è un momento, 1 su H per il suo braccio che ruota in senso anti-orario. C'è un momento che agisce così pari a 1 su H per il braccio che è H1 più H2. Ok, lo scriviamo meglio, lo mettiamo al numeratore, allora H1 più H2 che è il braccio che moltiplica 1 su H, quindi è così, ecco qui. Ci deve essere allora un momento uguale ed opposto che bilanci questo. E chi me lo può dare? Me lo possono dare delle azioni verticali che sono qui esercitate dal nodo C sul tratto e qui esercitate dal nodo A, quindi dal vincolo esterno A sul tratto. Se queste rosse girano in senso anti-orario o quelle verdi dovranno girare in senso orario e dovranno avere un valore tale che quando lo moltiplico per il braccio L mi fornisce lo stesso momento. Quindi, se prendiamo questo momento e lo dividiamo per il braccio L, questo valore che ottengo qui è il valore di queste forze verdi. Quindi sarà H1 più H2 fratto H' moltiplicato L. dimensionalmente questa è una forza, visto che 1 è il momento applicato, quindi 1 ha la dimensione del momento, questo che dimensionalmente sarebbe 1 su lunghezza equivale a un momento diviso da lunghezza e quindi è una forza. Del resto anche 1 su H è una forza. Scriviamo anche in corrispondenza di questa forza verde il valore che è sempre H1 più H2 fratto H' per L. Bene, il tratto ABC quindi è perfettamente bilanciato. Completiamo l'equilibrio del tratto CD perché il nodo C esercita sul tratto CB questa forza verticale e allora per l'equilibrio del nodo lo stesso nodo dovrà esercitare una forza uguale opposta sul pendolo CD. quindi questa forza verde che ha sempre lo stesso valore indicato in verde qui esercita il nodo C sul tratto e allora lo stesso tratto per il suo equilibrio alla traslazione verticale dovrà ricevere una forza verso il basso uguale all'opposta quindi stesso valore qui che è la forza che gli dà il nodo D ed è anche la reazione vincolare esterna in D quindi se adesso vado ad evidenziare per maggior chiarezza le reazioni esterne questa è una reazione esterna questa è una reazione esterna nel vincolo A queste due sono reazioni esterne nel vincolo D e questo è un carico esterno applicato in D queste forze dovranno farsi equilibrio perché ci deve essere oltre all'equilibrio dei singoli tratti che io ho imposto ci deve essere anche l'equilibrio complessivo della struttura che a questo punto dovrà essere già automaticamente soddisfatto se ho proceduto bene infatti vediamo alla traslazione orizzontale l'equilibrio c'è perché abbiamo le due forze rosse che si fanno equilibrio sono uguali opposte alla traslazione verticale l'equilibrio c'è perché le due forze verticali verdi sono uguali opposte controlliamo l'equilibrio alla rotazione bene, per l'equilibrio alla rotazione abbiamo 1 su H e 1 su H con braccio H0 quindi abbiamo 1 su H per H0 che ruota in senso orario poi abbiamo la forza verde da questa parte e da questa parte con braccio L quindi abbiamo H1 più H2 fratto H per L con braccio L quindi L va via che gira in senso orario anch'esso mettiamo un più quindi sto considerando positivo il senso orario e poi abbiamo la forza il carico esterno il momento esterno 1 che gira in senso anti-orario quindi secondo questa convenzione andrà messa con segno negativo tutto questo deve fare 0 quindi in pratica la somma di queste prime due momenti di questi primi due momenti deve essere 1 e bilanciarsi con quel meno 1 andiamo a scriverlo meglio H0 su H più per il secondo termine abbiamo H sotto e sopra abbiamo H1 più H2 tutto questo fa 1 certamente perché al numeratore è OH0 più H1 più H2 che è proprio quello che ho chiamato H quindi questa somma fa 1 meno 1 che è questo il risultato effettivamente fa 0 quindi abbiamo visto come l'equilibrio esterno sia alla traslazione orizzontale che alla traslazione verticale che alla rotazione è soddisfatto così abbiamo concluso il calcolo delle reazioni del sistema 2 a questo punto andiamo a scrivere le leggi e disegnare i diagrammi del momento flettente nella scrittura delle leggi del diagramma del momento flettente sarà importante utilizzare gli stessi sistemi di riferimento che ho utilizzato nel sistema 0 e nel sistema 1 perché poi tutte queste leggi dovranno essere moltiplicate insieme nell'applicazione del principio dei lavori virtuali quindi stabiliamo ridisegniamo di nuovo lo stesso sistema di ascisse curvilinee asse X lungo il tratto AB e per ogni asse X che traccio disegno ortogonalmente ruotando di 90 gradi in senso orario l'asse M che sta a indicare che da quella parte le fibre tese corrispondono a un momento positivo quindi nel tratto AB il momento sarà positivo se tende le fibre di destra nel tratto BC così come ho fatto negli scorsi video utilizzerò un'asse X orizzontale non diretto lungo il tratto orientato così e quindi l'asse M sarà orientato così quindi saranno positivi i momenti che tendono le fibre inferiori il tratto CD mi sembra che non mi sia servito negli scorsi video e possiamo utilizzare un sistema di ascisse fatto in questa maniera quindi X orientato verso l'alto e di conseguenza saranno positivi i momenti che tendono le fibre da questa parte iniziamo a immaginare come sarà il diagramma dei momenti flettenti lungo il tratto AB abbiamo la forza in verde che non dà momento e la forza 1 su H che dà momento perché tende le fibre a sinistra quindi mi darà un diagramma dei momenti crescente linearmente in questa maniera questo diagramma dei momenti lo ribaltiamo qui dopodiché avremo l'insieme di queste due forze che mi darà un momento che dovrà avere andamento lineare e annullarsi nella cerniera C quindi sarà un diagramma dei momenti così infine il tratto CD che ripeto è un pendolo ma è caricato trasversalmente quindi avrà anch'esso un momento se partiamo dalla base vediamo subito che ha un momento pari a 1 che tende le fibre di sinistra ok e poi man mano che mi sposto la sua azione rimane costante ma subentra l'azione della forza rossa che tende le fibre di destra e quindi va a ridurre il valore assoluto di questo momento e lo controlleremo con i calcoli questo dovrà diventare 0 nella cerniera C quindi questo è qualitativamente il diagramma dei momenti andiamo a scrivere le leggi momento in AB funzione di X sarà dato dalla forza 1 su H moltiplicato il braccio X quindi immagino di trovarmi in una generica sezione è a distanza X da A e quindi X sarà il braccio di questa forza questa forza che tende le fibre di sinistra che secondo la mia convenzione dei segni danno momento negativo e quindi mettiamo un B in BC innanzitutto conviene sistemare meglio l'asse io qui ho disegnato un asse X orizzontale appunto per spiegare qual era la direzione dell'asse X ma il punto l'origine dell'asse X in realtà sarà in B quindi lo sistemiamo meglio così e lo trasliamo nella sua posizione corretta bene e a questo punto per ogni valore della scissa X io mi immagino di trovarmi in una diversa sezione della trave ok a distanza X misurata in orizzontale da B e rispetto a questa sezione producono un momento la forza 1 su H che avrà come braccio H1 più questa distanza verticale e avrà al momento la forza verde verticale ok con questa espressione che avrà un braccio pari a X quindi il momento sarà dato dalla forza verde che sarà H1 più H2 fratto H grande L moltiplicato il braccio X e questa forza rotando in questo modo tende le fibre inferiori che rispetto a questo sistema di assi e questa M in basso le fibre inferiori tese indicano un momento positivo quindi è corretto che sia positiva la forza 1 su H invece rotando al contrario tende le fibre superiori mi produce un momento che gira così e quindi inflette il tratto eccolo qui lo inflette così tendendo le fibre da questa parte e allora 1 su H mi darà un contributo negativo quindi più per andare a capo meno 1 su H moltiplicato il braccio il braccio di questo 1 su H è H1 più questa distanza verticale che potremmo chiamare Y quindi per ogni sezione io ho la distanza orizzontale che si chiama X perché è proprio la coordinata della scissa che ho scelto e la Y è la corrispondente elevazione questa Y si può scrivere ovviamente in funzione di X basta fare una semplice proporzione H2 sta a L quindi distanza verticale sta a distanza orizzontale misurato sull'intero tratto come la distanza verticale Y corrispondente a una certa sezione sta alla corrispondente distanza orizzontale X quindi Y da questa proporzione è pari ad H2 per X fratto L quindi H2 fratto L per X H2 fratto L per X e questa è l'espressione del momento nel tratto BC riferito alla scissa X che ho scelto orizzontale infine il tratto CD ho deciso di partire dal basso al solito l'origine dell'asse va immaginata in D cioè nel estremo dell'asta ok abbiamo il momento 1 che tende le fibre di sinistra e quindi è negativo quindi andiamo a scrivere md dc funzione di X è uguale a meno 1 più perché abbiamo la forza 1 su H che invece dà un contributo positivo perché tende le fibre di destra 1 su H per X perché se mi pongo a una qualunque sezione X rappresenta la sua distanza rispetto al punto D e quindi X rappresenta il braccio della forza 1 su H se al posto di X andiamo a mettere H perché ci puniamo proprio in C beh è facilissimo vedere che questa espressione dà 0 così come non l'ho mostrato ma l'espressione del momento nel tratto BC se puniamo X pari a L deve dare 0 facciamo questa verifica se mettiamo X pari a L qui si semplifica la L che ha presiposto di X con la L che sta al denominatore qui mettendo X pari a L risulta che Y è H2 quindi qua ci troviamo H1 più H2 fratto H grande L è andata via meno H1 più H2 fratto H grande quindi anche in questo caso è abbastanza semplice vedere che il risultato è 0 momento nullo nella cerniera bene passiamo adesso ad esaminare infine il sistema 3 il sistema 3 era soggetto a questi due momenti che rappresentavano la coppia di reazioni interne nel vincolo C che in origine era un incasto interno e adesso è stato declassato a cerniera per prima cosa ricaviamo le reazioni notiamo che il carico esterno applicato ha risultante nulla e quindi anche i vincoli esterni dovranno avere reazioni che complessivamente hanno risultante nulla lo vedremo innanzitutto consideriamo dei due momenti 1 quello di destra quello che agisce sul tratto CD e quindi il tratto CD essendo soggetto a questo momento 1 con senso anti-orario dovrà avere delle azioni date dai vincoli sul tratto che complessivamente producono un momento pari a 1 quindi siccome il braccio di queste due forze orizzontali è la somma di H0 H1 e H2 che abbiamo chiamato H grande il loro valore sarà 1 su H cioè molto simile a quello che abbiamo fatto nel sistema precedente ci può essere anche una reazione verticale ovviamente ma le reazioni verticali non producono un momento quindi quel momento 1 deve essere innanzitutto bilanciato dalle azioni orizzontali le azioni verticali qualora ci fossero si aggiungeranno ma non incideranno nell'equilibrio alla rotazione questo 1 blu ruota in senso anti-orario le forze 1 su H rosse costituiscono una coppia che ruota in senso orario 1 su H per H grande da 1 e quindi l'equilibrio è stabilito in C questa 1 su H si deve rimbaltare sull'altro tratto questo per l'equilibrio orizzontale del nodo e quindi sul punto A ci deve essere un'azione sempre dal nodo sull'asta pari a 1 su H in modo che il tratto A-B-C sia in equilibrio alla traslazione orizzontale dovrà essere ovviamente anche in equilibrio alla rotazione e questo lo potranno realizzare le azioni verticali quindi qua ci sarà un'azione verticale qua ci sarà un'azione verticale sono sempre quelle che disegno azioni sul tratto ok questa azione verticale si scambierà sul tratto CD e si riporterà anche qui queste due verti verticali saranno due forze uguali opposte queste due rosse sono due forze uguali opposte e quindi abbiamo anche l'equilibrio alla traslazione esterna e in più i loro valori dovranno stabilire l'equilibrio alla rotazione per trovare il valore di queste forze verticali posso studiare o l'equilibrio del tratto ABC alla rotazione o l'equilibrio alla rotazione dell'intera struttura facciamo l'equilibrio alla rotazione dell'intera struttura le forze 1 su H che hanno braccio H0 ruotano in senso orario stabiliamo che questo senso per questo equilibrio sia positivo e mettiamole quindi col segno più le forze verdi che sono incognite in questo momento dovranno pertanto ruotare in senso anti-orario quindi il loro verso dovrà essere questo questo significa che qua sopra avrò questa così per l'equilibrio del tratto CD si scambia nel nodo e qui abbiamo l'equilibrio andiamo avanti per determinare il valore il valore di questa forza chiamiamola per adesso R il valore di questa R moltiplicato per il suo braccio che è L avrà segno negativo perché gira in senso anti-orario insieme al primo momento questo della forza rossa dovrà dare risultato totale di 0 quanto vale R quindi R per L dovrà essere uguale ad H0 su H quindi R sarà pari ad H0 su H per L quindi questa forza verde che ho indicato con R sarà H0 su H per L qua avrà lo stesso valore qui avrà lo stesso valore e qui lo stesso valore a questo punto potremmo controllare che ci sia l'equilibrio della rotazione del tratto ABC è un equilibrio che comprende il momento 1 solo quello da questa parte che agisce sul tratto ABC la coppia di forze 1 su H col suo braccio H1 più H2 e la coppia di forze R ed R col suo braccio L beh non lo scrivo chi vuole può provare come esercizio a verificarlo a questo punto iniziamo a scrivere le leggi dei momenti flettenti del sistema 3 ecco qui intanto ho disegnato il sistema di ascisse identico a quello che ho utilizzato nel precedente sistema e in tutti quelli precedenti e iniziamo ad analizzare l'andamento dei momenti beh avremo qui nel tratto AB il momento dovuto alla forza 1 su H mentre la forza verde non dà nessun momento perché assiale questa forza mi tende le fibre di sinistra secondo la mia convenzione dei segni sarà un momento negativo questo momento lo ribaltiamo qua e questo momento nel tratto BC avrà un andamento lineare dovuto alle forze R e 1 su H ma a differenza del sistema precedente non andrà ad azzerarsi nella cerniera perché si tratta di una cerniera caricata a momento su quella cerniera agisce un momento 1 e allora ci sarà un momento nella cerniera pari a 1 ok quindi diciamo così perché lo sto andando a disegnare da quel lato ricordiamo che disegno il momento sempre dalla parte delle fibre tese questo momento varrà 1 e le fibre tese sono quelle superiori questo lo capisco perché se guardo dei due momenti quello agente sul tratto BC quindi questo che sta a sinistra e questo tende le fibre superiori del tratto se non è del tutto chiaro questo vediamo come disegnarlo in maniera più chiara se questo è il tratto BC lo ridisegno qui e il momento 1 stava disegnato così ok facciamolo ruotare questo momento il momento lo posso disegnare in qualunque maniera così così è sempre lo stesso momento ok è sempre lo stesso senso di rotazione quindi questo momento 1 che agisce sul tratto BC lo posso disegnare così ecco se lo disegno così in modo che lo vedo agire dall'esterno sul tratto capisco facilmente che inflette il tratto in questa maniera e quindi mi tende le fibre da questo lato quindi sarà così è ancora più semplice da capire se guardiamo il tratto CD il tratto CD parte in dico momento 0 dopodiché agisce questa forza 1 su H con un braccio crescente quindi un momento crescente linearmente che tende le fibre di destra positive secondo i miei assi e che qui arriverà a 1 su H per H grande quindi 1 su H grande per H grande che fa 1 quindi qua raggiungo un momento pari a 1 ok il che è corretto perché lì agisce questo momento 1 che se lo guardo girare e girare e agire da fuori sul tratto capisco che mi tende le fibre di sinistra lo ridisegniamo anche qui in maniera che sia un po' più chiaro quel momento 1 che gira in senso anti-orario anziché rappresentarlo qui lo faccio proseguire e lo rappresento ops e lo rappresento così quindi è chiaro che inflette il tratto in questa maniera e mi tende le fibre da questo lato quindi è corretto che qua ci sia 1 e 1 quella non è in realtà una cerniera interna è una cerniera interna dove io ho ripristinato le due reazioni vincolari che avevo quando era un incastro interno quindi si ristabilisce una situazione di incastro interno in cui il momento però è noto perché è fisso pari a 1 ok scriviamo le leggi momento in AB funzione di X è pari a 1 su H per X abbiamo già scritto una legge del genere negli altri sistemi tende le fibre di sinistra che sono negative M di BC ricordiamoci che l'ascissa che sto utilizzando è orizzontale presa una generica sezione questa si troverà a distanza X da B misurata in orizzontale e a distanza Y misurata in verticale dove Y abbiamo visto prima è legata a X da una relazione molto semplice allora mettiamoci in questa sezione guardiamo alla nostra sinistra vediamo la forza 1 su H che ruota nel senso di tendere le fibre superiori quindi negativamente ok per H1 più Y dove Y è lo stesso che abbiamo ricavato prima Y è X moltiplicato il rapporto H2 su L che è la pendenza del tratto più abbiamo adesso la forza verde che tende no in realtà anche questa meno tende anche lei le fibre superiori ok ed ha un braccio che è X quindi la forza R che era H0 l'ho scritto qui fratto H grande per L per X basta se poniamo X pari a L mentre nel sistema precedente in quel caso otteniamo momento 0 perché mi trovavo su una cerniera scarica ok adesso dovrò trovare 1 anzi dovrò trovare meno 1 perché trovo questo momento 1 che tende le fibre superiori beh è facile da verificare che se mettiamo X pari ad L la Y risulta H2 qui c'ho H1 più H2 e qui c'ho H0 questa X vale L quindi va via questa L quindi avrò la somma H1 più H2 più H0 al numeratore e H grande al denominatore ma tutto questo col segno meno davanti all'intera frazione quindi sarà meno 1 meno 1 che è appunto il valore del carico esterno ultimo tratto M di C abbiamo 1 su H che abbraccio X cioè la distanza alla quale mi sto ponendo lungo la mia ascissa curvilinea rispetto a D e tende le fibre di destra che secondo la mia convenzione dei segni danno un momento positivo questo se lo calcoliamo per X pari a H grande vale 1 più 1 ed è l'azione di questo momento che tende anche lui se lo guardiamo bene qui si capisce le fibre di destra e quindi per questo è positivo bene con questo abbiamo concluso lo studio dei sistemi 2 e dei sistemi 3 e quindi insieme ai due video precedenti abbiamo studiato tutti e quattro i sistemi nel prossimo video finalmente utilizzeremo il principio dei lavori virtuali per mettere tutti insieme imporre la congruenza del sistema vedremo cosa significa e ricavare i valori delle tre incognite iperstatiche e così concluderemo questo impegnativo è lungo esercizio vi ringrazio per l'attenzione e se avete perso i primi due video vi invito a vederli e arrivederci al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti